Ciao a tutti, eccoci oggi qui a parlare di tecnica, tecnica sulla chitarra. Cosa significa? Eh, cosa significa? Può significare tante cose. Soprattutto fare tecnica è utile, non è utile, fa bene, non fa bene, quanto è utile, quanto fa bene e via così. Ovviamente l'argomento è complesso, diciamo che mi sono messo in una situazione spinosa, però cerchiamo di capire cosa significa, qual è il senso di fare tecnica. Beh, allora, intanto la tecnica significa avere degli strumenti che ci permettono poi di suonare, giusto? Di realizzare quello che vogliamo. Ora, la tecnica è intrisa ovviamente in ogni brano che suoniamo, perché se così non fosse questi brani sarebbero vuoti, no? Ovviamente. Quindi in ogni brano ci sono legature, ci sono scale o parti di scale, ci sono bellimenti, vibrati e quant'altro. Ora, nell'immaginario collettivo la tecnica di solito è un po' quella quotidiana che si fa con i legati o con le scale, magari le scale di Segovia, e poi per esempio la mano destra, gli arpeggi, no? Quelli di Giuliani, adesso tanto per citare e semplificare. E poi tutto un mondo di esercizi. Allora, qual è il senso di fare tecnica? Beh, il senso di fare tecnica è di acquisire una capacità tale, ricca, ampia, variegata, che ci permetterà poi, durante le esecuzioni, di soffruire di una sorta di tavolozza, di opportunità, così da poter interpretare, poter dire la propria su un brano, oltre al fatto ovviamente di realizzarlo meccanicamente. Ora, secondo me il punto non è se è giusto fare tecnica o non farla. Il punto è come, ovviamente. Perché questo? Perché quando noi facciamo un esercizio, se questo esercizio implica un certo tipo di movimento, e noi lo ripetiamo tante volte perché questo esercizio prevede un movimento magari dai primi tasti fino sotto, e poi tornare su. Benissimo. Ora, prima di fare un esercizio, cioè di vedere che c'è scritto e realizzarlo, bisogna sapere, e quindi in questo caso sarà importante essere guidati in questo senso, come farlo. Perché il movimento che realizza questo esercizio dovrà essere corretto, dovrà essere funzionale. Perché se così non fosse, noi andiamo a creare un problema, ce lo creiamo proprio importante. Perché che cosa facciamo? Se il movimento non è corretto, e l'esercizio lo ripetiamo più volte, e lo stesso esercizio prevede tante ripetizioni, eccetera, eccetera, noi andiamo a replicare per tante tante volte un qualcosa di errato. E questo qualcosa di errato normalmente poi ci induce a una gran fatica, ci induce a dolori, o ci può indurre ovviamente, non dico che succeda sempre questo, per carità. E dov'è però poi il problema ancora più grosso che si può generare? È che nel momento in cui questo avviene, cioè, fatico tanto a fare i legati, uno pensa che deve farne di più, perché non è abbastanza allenato. No, attenzione, la cosa fondamentale è capire il movimento, come deve essere fatto il movimento. E soprattutto questi esercizi non devono essere ripetuti in maniera meccanica n volte senza mai fermarsi, perché la muscolatura, i nostri apparati tendini, scheletrici, muscolari, cartilagini, articolari, chiamiamoli come voglia, cioè tutti quanti, devono avere una fase di recupero. Quindi mettersi lì a fare dieci minuti di legati ripetuti sempre nello stesso modo, esattamente più volte, più volte, fino a sentire il dolore, ecco, questo è davvero da evitare, assolutamente, perché può indurci poi a problematiche importanti, tendiniti, fasciti e addirittura anche problemi superiori, quando ovviamente questo succede per molto tempo e su tanti aspetti. Allora, che cosa ha più senso, diciamo? Intanto capire come si deve fare il movimento, come si, proprio si struttura il movimento del legato o di qualunque altra cosa, no? Di un arpeggio. Fare un arpeggio in maniera ripetuta, forzata, senza dare un minimo di recupero alla muscolatura, indurrà la mano piano piano a indurirsi sempre di più. E appunto non dobbiamo pensare che è un nostro difetto, ok? Dobbiamo sapere come fargli questi esercizi. Allora, dal mio punto di vista, sinceramente fare mezz'ora di legati al giorno, un'ora di scala al giorno, eccetera, eccetera, diecimila diteggiature e quant'altro, fini a se stesse. Poi il risultato finale è comunque relativo, perché quando noi andiamo a suonare abbiamo mille variabili, ok? Quindi la tecnica deve essere sempre inserita all'interno di un contesto, perché in un brano il legato A e poi il legato B e poi il legato C non saranno fatti nello stesso modo, perché nel legato A ci si arriva in un certo modo e poi si farà qualcos'altro, nel legato B ancora diversamente e via così. Quindi noi dobbiamo immaginare che questi esercizi di tecnica debbano essere comunque degli esercizi musicali. Ecco che ci sono gli studi sui legati, gli studi sui, ecco, già lì c'è un senso diverso, perché in qualche modo devo variare le modalità con cui attuo questo movimento meccanico, che sia appunto il legato o quello che sia. E dal mio punto di vista il modo migliore per fare tecnica è estrapolarla dai brani, prendere un punto di cui si ha difficoltà e sviscerarlo, farne un esercizio con tante variabili, come tante varianti più che altro, in modo che quando ci va a suonare, in quel momento hai questa tavolozza, perché quel passaggio può essere più veloce, un po' più lento, un giorno un po' in un modo, uno non suonerà sempre identico a se stesso, no? Anzi, avere una tavolozza ti permette poi di scegliere e di modulare quello che vuoi fare. Ora vi faccio un esempio per farvi capire quanto ripetere meccanicamente un esercizio sempre nello stesso modo per lungo tempo non ci aiuta poi a suonare meglio. Perché? Come funziona? Quando noi impariamo un movimento elaboriamo uno schema motorio, ok? Il nostro cervello lo elabora. Questo schema motorio è molto preciso, molto più di quanto ci possiamo immaginare. Se poi quando andiamo a suonare in realtà quello che ci serve è un po' diverso, noi dovremmo costruire uno schema motorio adeguato a quell'altra situazione. Sarà simile ma non sarà uguale. Quindi, non ha senso fare sempre la stessa cosa, ha senso fare un esercizio in cui i legati, per esempio, vengono effettuati in tanti modi diversi, con le giuste pause nei movimenti, senza esagerare, senza esasperare. L'esempio che voglio farvi, per quanto i nostri schemi motori siano precisi, è questo. Allora, voi immaginate di salire le scale di un palazzo. Ora, questo palazzo ha sei piani, va bene? I primi cinque piani hanno gli scalini di un'altezza diciamo di 20 centimetri. L'ultimo, perché magari è soprelevato, in realtà ha degli scalini leggermente più bassi, da 18 centimetri, ok? Ora voi partite fra il primo piano e il secondo piano e il vostro cervello in maniera automatica tara il movimento delle gambe su quell'altezza. Arrivati all'ultimo piano, se voi non lo sapete, sul primo scalino che è di due centimetri più basso, quando poggiate il piede vi sentirete cadere in avanti, come se ci fosse un vuoto, eppure erano solo due centimetri, non dieci, non era uno scalino così, era solo due centimetri in meno. Bene, provate, se vi capiterà, perché lo schema motorio di una cosa ripetuta è talmente preciso che appena c'è una variante andate fuori fase. Questo avviene facendo le scale e avviene suonando. Quindi, mi raccomando, la tecnica è tutto. Quando si vuole fare un passaggio e si vuole rallentare, vibrare in quel punto, quella è tecnica. Quando si vuole fare un accelerando, quando si vuole fare un rallentando, quando si vuole vibrare, tutto questo è comunque tutto tecnica. È tecnica il tipo di tocco, il tipo di suono, tutto è tecnica, come tutto è musica, non sono scendibili. Quindi, cercate di immaginare che la tecnica che voi dovrete fare sulla chitarra è qualcosa che debba essere molto funzionale poi alla musica, mai avulsa dalla musica. Quindi, volete fare una scala? Benissimo, prendete una sezione di scala perché normalmente, a parte proprio il concerto da ranquezza o altre cose, è difficile che si faccia una scala da tre ottave sulla chitarra tutti i giorni. prendete una sezione e lavoratela con le dinamiche, con i rallentanti, gli acceleranti, con gli accenti diversi, con tutto quello che vi viene in mente, ok? In tutte le combinazioni possibili, in modo che questo bagaglio poi vi rimanga per poterlo usare durante un'esecuzione. Non ha senso fare una scala tutta uguale a se stessa, a metronomo, 500 volte, pensando che poi questo possa davvero aiutarvi nell'esecuzione. Bene, sono sicuro che ci saranno tanti pareri, probabilmente anche discordanti, e io sono qui per un confronto pacifico, ovviamente, e sempre costruttivo. Grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Ciao!